Io direi di entrare subito nel vivo dei lavori e partiamo dal seminario, un seminario se vogliamo di strettissima attualità basti considerare che cosa è successo qualche settimana fa sui prodotti assicurativi, sulle polizze come prodotti finanziari in termini della Corte Costituzionale, è intervenuta l'ANIA e allora proviamo a fare un po' il punto, proviamo a fare un po' di ordine con il seminario dal titolo Le polizze finanziarie tra IDD, MIFI2 e Solvency, come cambia il mercato il professor Raul Pisani, docente di Economia degli intermediari finanziari, Università di Trento e docente alla SDA Bocconi Buonasera, ben arrivato, le lascio il palco, le strappo la promessa del rispetto dei tempi Buongiorno a tutti, mi chiamo Raul Pisani, sono un professore universitario, insegno economia degli intermediari finanziari dell'Università di Trento e lavoro in SDA Bocconi da più di vent'anni, ahimè occupandomi di tematiche di carattere assicurativo Di che cosa parleremo durante questo intervento? Diciamo che il settore assicurativo sta fortemente cambiando si sta fortemente modificando sia nel vita che nei danni e in questo contesto la regolamentazione è attore di cambiamento e subisce questo stesso cambiamento quindi noi cercheremo di capire un po' cos'è, quali sono le priorità che oggi una compagnia di situazione ha in Europa poi vedremo in che modo entra nel settore assicurativo la normativa IDD che è di fresca o recepimento in Italia il recepimento è avvenuto praticamente qualche giorno fa e come questa normativa che è un po' fondamentalmente a maglie larghe e cercheremo di capire anche perché è a maglie larghe come questa normativa si combina con altre normative che sono fondamentalmente MIF2 ma anche Solvency e alla fine che cosa produce? Cercando di partire dalle premesse cioè dalla desiderata, dalle priorità percepite dal management di una compagnia di assicurazione fino ad arrivare agli effetti della normativa vediamo l'effetto complessivo che cosa succede? Io spero di essere abbastanza abile nel girare le slide adesso sì, ci sono riuscito quindi fondamentalmente il menu prevede i seguenti dati alcuni dati di base sul mercato assicurativo in Europa per capire fondamentalmente dove siamo io ho portato dei dati che riguardano il vita non ho portato dei dati che riguardano i danni ma quelli ve li dico a voce così ci capiamo dopodiché vedremo la struttura della disciplina IDD della direttiva dopodiché vedremo all'interno della direttiva matriosca più interna le norme di comportamento determinate dall'IDD quindi fondamentalmente la consulenza la non consulenza gli inducements i conflitti di interesse vedremo un po' queste cose cosa si aspetta cosa impone la direttiva ai distributori dopodiché ci faremo qualche domanda ancora più fittante volta a stabilire se è possibile immaginare un contratto di consulenza funzionale a collocamento per consulenti finanziari basato esclusivamente su contratti assicurativi vedremo i limiti della questione ecco dopodiché faremo una come dire un'osservazione dall'alto del mercato assicurativo italiano e ci chiederemo ma quali sono stati i fattori critici di successo nella distribuzione assicurativa e evidentemente quali sono i weak points del mercato qualora dovesse cambiare qualcosa qual è il principale problema o dal punto di vista strategico quello che si potrebbe immaginare la peggiore preoccupazione per un per qualcuno che per un direttore generale per un amministratore delegato che si occupa principalmente di vita in Italia e vedremo che diciamo tra le varie questioni che preoccupano ci sono anche quelle fiscali e già che ci siamo a quel punto apriremo il grande contenitore del trattamento fiscale della polizza per residenti fiscali italiani che sembra una banalità sconcertante ma poi riesca a scoprire che non è così altra cosa che apparentemente a voi non interessa ma che in realtà è molto importante e quindi vi interessa è il trattamento contabile della polizza finanziaria nel bilancio consolidato della compagnia perché questo riesce a far capire tante cose compreso quale sarà il futuro della polizza e come viene vissuta dall'esterno in fondo se io a casa mia chiamo una cosa mela è legittimo che quella sia una mela e se qualcuno ha inventato una regolamentazione sulla mela evidentemente io dovrò attenermi a quella regolamentazione perché se no non rispetto la legge meno che mai se per caso sulla mela c'è un'imposta la devo pagare quindi occhio a questo aspetto Solvency 2 pone dei problemi segnatamente o meglio non è che li pone non li pone li quantifica se una compagnia di assicurazione desidera emettere una polizza di ramo primo la polizza di ramo primo prevede necessariamente al denominatore del rapporto tra revenues e capitale assorbito un capitale assorbito nettamente superiore rispetto a quella della polizza unit enormemente superiore questo significa che naturalmente una compagnia che come dire abbia intenzione di fare legittimamente del benessere al suo azionista deve stare attento a questo dettaglio alcune compagnie pubblicano nettamente qual è il numeratore del rapporto nelle presentazioni degli analisti chiariscono che una certa polizza rivalutabile offre mediamente una certa quantità di BIPs alla compagnia viceversa una unit link offre un'altra quantità di BIPs peccato tra i due BIPs ci sia il doppio nel caso della unit link e quindi apriremo anche quest'ultimo versante quindi cerchiamo di capire quali sono le intenzioni da parte delle compagnie e alla fine ci faremo una domanda delle 100 pistole cioè ci chiederemo ma c'è sovrapposizione o complementarietà tra polizza vita finanziaria e servizi di gestione le polizza sono un'altra cosa rispetto ai servizi di gestione o no perché attenzione che se noi rispondiamo di sì evidentemente dobbiamo configurare il prodotto in un altro modo rispetto al servizio di gestione se invece configuriamo di no parliamo di no allora evidentemente sono uguali ma se sono uguali ci sono delle bisogna stabilire quali sono le regole del gioco perché da entrambe le parti io non posso avere due regole del gioco diverse è evidente l'acqua del fiume va verso il mare quindi io posso metterci una diga a un certo punto far finta che le regole siano diverse ma prima o poi mi sa che l'acqua va oltre la diga bene diciamo che gli argomenti sono questi dopodiché se ci saranno delle domande sono benvenute spero che siano facili così non ci saranno problemi allora dati sul mercato vita in Europa quello che vi ho portato sono dei dati Fonte Insurance Europe che è una sorta di Agna Europea che raccoglie questi dati dalle principali compagnie di assicurazione europee quelle che sono associate che sono la stragrande maggioranza di quelle che ci sono quindi sono dati relativamente affidabili fondamentalmente io qui vedo se uno guarda questi dati si rende conto che l'intera Europa ha un'industria assicurativa che drena una quantità di premi non è indifferente sono migliaia di sono miliardi di euro quindi l'Italia ritende scarsando fa la sua opera con 114 miliardi di euro sarebbero 115 diciamo scarsi nel 2015 purtroppo i dati 2016 non ce l'hanno non ci sono ancora non sono ancora affidabili quindi quindi vi devo portare quelli del 2015 con il Regno Unito che temo che come dire abbia dei dati del 2014 se ci guardate un attimo dentro però diciamo quello che conta è il film no? il film prevede che ci siano questi uno potrebbe ritenere che sia un film molto interessante perché in fondo abbiamo dei volumi di premi by the way i premi sono new cash quindi siamo tutti contenti io però preferisco guardare i dati anche dall'altra parte e dall'altra parte che cosa si vede? questi sono i pagamenti che le compagnie di segrazione fanno vuoi riscatti vuoi capitali a scadenza vuoi capitali caso morte insomma c'è un po' di tutto e qua cominciamo a vedere altre cifre la slide precedente ti faceva vedere oddio tornare indietro qui pare che sia difficile comunque facciamo conto che ci siamo tornati erano 700 erotti i miliardi di euro nella raccolta di premi Europa invece i pagamenti sono 649 e quindi voglio dire tutti quei 711 non erano miliardi di new cash c'erano anche come dire riprese di capitali pagati allora io mi diverto a fare qualche piccolo calcolo e ho incrociato i due dati allora eh qua mediamente in Europa parliamo di un rapporto che è dell'89% il che significa che il continente si produce 711 milioni di miliardi di euro di premi ma non sono new cash o meglio una parte è new cash il 10% l'11 il resto no e alcuni paesi guardate l'ultimo la Gran Bretagna prendendo i dati non di oggi ma prendendo i dati dal 2008 in avanti ha una raccolta assicurativa negativa cioè la quantità di capitali pagati è decisamente superiore alla quantità di capitali raccolti e questo come dire va tenuto in considerazione non è un fenomeno dell'ultimo anno è un fenomeno che viene da lontano altri paesi i primi in modo particolare l'Austria viaggia intorno al 100% nel 2015 125 e così anche altri ad esempio mi sembra la Spagna l'Italia è decisamente caratterizzata da rapporti più bassi però a livello europeo noi abbiamo questi dati 89% che ci fanno capire una cosa il mercato vita è maturo in alcuni paesi può ancora crescere ma nell'over role è maturo e questo significa che fondamentalmente un amministratore delegato di una compagnia che deve operare in Europa si chiede e dice ok prendo atto che il mercato è affollato che cosa c'è oltre a questi dati nell'ambito del 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 mondo danni le cose sono assolutamente diverse o meglio molto più differenziate in modo particolare l'Italia è un paese che nell'ambito dei danni ha un volume di premi molto più basso diciamo circa la metà no anzi molto meno circa siamo attorno ai 35 miliardi di euro quindi siamo decisamente molto più bassi dei 114 ma noi pur essendo il quinto paese danni in Europa siamo anche il sedicesimo paese estratto le coperture obbligatorie cioè se noi in tutta Europa nei rami danni togliamo le coperture obbligatorie quindi fondamentalmente malattia RC auto e dividiamo per abitante vediamo che l'Italia passa dal quinto posto al sedicesimo o forse diciottesimo dipende dai metodi di calcolo questo cosa significa significa una cosa molto semplice un amministratore delegato di compagnia dice in Europa mercato molto maturo nel vita io posso immaginare degli effetti di redistribuzione in alcuni paesi posso portare del new cash sì può darsi in Gran Bretagna sarà difficile mentre in alcuni paesi è molto più facile collocare polizie danni segnatamente anche l'Italia perché tra il quinto posto e il sedicesimo posto c'è un gap notevole domanda ulteriore ma qual è il roe vita e qual è il roe danni il roe vita è largamente determinato dai capitali assorbiti che sono figli dei rischi credito e tasso di interesse quindi è una questione di carattere finanziario i roe danni sono invece determinati dai capitali assorbiti legati alla capacità di collocare una polizza presso soggetti che non fanno incidenti quindi soggetti caratterizzati da un comportamento prudente ma in soldoni in soldoni nei danni si può arrivare a dei roe del 20% e oltre nel vita è impossibile temo che sia difficile quindi la priorità di una compagnia di assicurazione in questo momento è tenere il mercato vita ma anche dirigere i propri sforzi nell'ambito dei danni questo significa che sono la priorità diciamo una delle priorità forse una delle più avvertite è prestare attenzione all'ambito dei danni perché è in più elevata trasformazione rispetto al vita voi nel vita avete delle trasformazioni di carattere regolamentare nei danni ci sono delle trasformazioni anche di altro tipo ad esempio tecnologico come faccio a leggere i dati della scatola nera degli automobili è importante perché se io trovo un conducente che guida bene evidentemente gli posso vendere un prudente che gli posso vendere anche una polizza riscita del capofamiglia e i margini di soddisfazione per gli azionisti possono essere molto più elevati rispetto a quelli del vita quindi i piani industriali riflettono questo se voi leggete i piani industriali delle principali compagnie quotate vedete che si parla della necessità di mantenere il vita ma di sviluppare i danni segnatamente retail tenete conto che la sviluppo tecnologico porterà dei enormi cambiamenti nell'ambito dei danni le compagnie sono ben consapevoli ad esempio tra qualche anno nel 2025 avremo molte meno automobili meno rc auto che cosa significa crollo verticale dell'rc auto avremo delle automobili che saranno chiamate attraverso una app saranno finiti gli incidenti no lo vedete con tesla ma saranno incidenti diversi molto meno numerosi molto più gravi e qui si trasferirà l'onere assicurativo non su chi conduce la macchina perché non ci sarà più ma si trasferirà sul produttore quindi sarà un problema del produttore dell'auto e quindi sarà un problema di assicurare il produttore dell'auto così come ci sarà la necessità di assicurare il nostro comportamento quello dei nostri figli dal pericolo di sniffare dati di un computer altrui magari dati per scherzo il giochino fatto da nostro figlio che va a introfolarsi nell'hard disk di qualcun altro e gli porta via anche dei dati sanitari questo è un problema molto molto percepito dalle compagnie tutto il mondo responsabilità civile si sta riorganizzando ed è un grosso un grosso business poco conosciuto dalle reti e che sarà il business del futuro quindi le compagnie devono da un lato capire qual è il rischio informatico o il cyber risk come si riverba in termini di responsabilità civile spiegarle alle reti e stabilire una strategia di vendita è importante perché è il business del futuro è il business della felicità in fondo la RC è la difesa del proprio diritto alla felicità quindi attenzione che le compagnie dal punto di vista tecnologico sono molto orientate in questo momento anche ai danni e quindi danno per scontato un po' per diverse ragioni che quella è una zona da considerare altra cosa che dobbiamo tenere presente in Europa questo è il comportamento dei canali distributivi a livello di distribuzione vita come potete notare dalla disamina dei colori non c'è un benchmark di riferimento ci sono alcuni benchmark di riferimento ad esempio alcuni paesi dell'Europa meridionale portogallo spagna francia italia hanno una fortissima presenza delle banche nella vendita di contratti assicurativi ma altri no quindi l'Europa è un posto assolutamente diversificato e parliamo del vita come la mettiamo nei danni peggio mi sento guardate il pilone rosso quello fondamentalmente è la sottoscrizione diretta in contropartita della compagnia assicurazioni o tramite un sistema tecnologico che porta verso la compagnia assicurazioni quindi il sito della compagnia o attraverso canali più tradizionali ma comunque originati dalla compagnia come potete notare abbiamo una caratterizzazione diversa di questi di questo dello stesso canale a seconda dei paesi quindi come dire alcuni tratti comuni attenzione ai rami danni il vita è nella maggior parte dei paesi europei quelli più grossi diciamo non più non tutti quelli 711 miliardi di euro sono new cash anzi una piccola parte e poi molti tratti assolutamente diversificati per cui i canali distributivi sono terribilmente diversi tra di loro a questo punto arriva la disciplina IDD che nasce in un modo e finisce in un altro nasce inizialmente come un progetto di direttiva di rivisitazione della precedente direttiva di intermediazione assicurativa intermediazione significa mettere un soggetto tra un produttore e un cliente ma appena tirata giù una bozza di direttiva ci ripensano dicendo caspita abbiamo sbagliato dobbiamo normare i processi di distribuzione anche quelli diretti dove non c'è l'intermediario la compagnia distribuisce verso il cliente quindi nasce una seconda bozza di direttiva che è quella che più o meno abbiamo la insurance distribution directive che scopo ha questa direttiva deve sostituire quella del 2002 quella sull'intermediazione assicurativa e dice caspita dobbiamo preoccuparci di tutta la distribuzione quella diretta ma anche quella non tradizionale il sei sicuro della situazione il segugio della situazione anche perché spesso i clienti oggi nell'ambito delle polizze danni cosa fanno usano lo smartphone vanno a cercarsi la polizza che apparentemente costa meno sul segugio della situazione e poi anche in Gran Bretagna anche nell'auto vanno nel canale diretto e non necessariamente comprano quella che costa meno quindi l'idea che nell'ambito dei rami danni la polizza debba costare poco secondo qualche società di consulenza e qualche vendor di informatica a livello europeo è una preoccupazione legittima che ha circa il 15% dei consumatori europei gli altri no quindi come dire dobbiamo tenere presente che c'è questa informativa online sul segugio della situazione che come dire poi viene seguita nella vendita tradizionale ma c'è la parte online se non lo facciamo dicono qui abbiamo dei canali regolamentati agenti broker banche eccetera ma i comparatori la grande distribuzione no per non parlare del commercialista che potrebbe consigliare una polizza a TFM o volta a garantire la responsabilità a tutelare la responsabilità dell'amministratore per giunta sta arrivando la MIFID 2 si stanno interessando del mondo assicurativo alcune polizze finanziarie non sono state prese in considerazione di fatto della MIFID 1 e l'obiettivo quindi è quello di costruire una direttiva che sia di protezione del consumatore in un contesto in cui i modelli distributivi europei sono molto diversi e attenzione anche i contratti noi abbiamo fondamentalmente contratti finanziari contratti vita di protezione caso morte ma anche malattia abbiamo contratti danni abbiamo tutto il mondo dell'RC che come dire è il mondo del futuro e che quasi nessuno conosce o quasi nessuno no però diciamo è più complicata quella polizia allora noi dobbiamo normare canali eterogenei e prodotti assolutamente eterogenei che quasi niente hanno in comune ma è lo sforzo come si risolve con questo sforzo? attenzione lo sforzo è superiore a quello del salto tra MIFID 1 e MIFID 2 perché più o meno bisognava allargare stringere le maglie allargare il novero ma quello era il regolamento PRIPS riguarda fondamentalmente i prodotti complessi definito i prodotti complessi ci metti dentro le polizie di ramo primo va bene ci metti dentro quelle di ramo terzo per carità ci metti dentro i contratti di capitalizzazione ok però quelli sono mentre qua abbiamo un impatto più innovativo e quindi abbiamo prodotti molto complessi ho stressato il fatto che siano molto complessi perché questo ci aiuta a capire se è possibile effettuare diciamo una vendita di un prodotto assicurativo in che modo nel mondo della proprietà nel mondo della consulenza oppure su richiesta del singolo cliente praticamente la only the only execution attenzione che abbiamo una roba che è un po' complicata di per sé o potrebbe esserlo gli orizzonti di complicatezza sono la finanza e alcune polizze RSC scusate se è stresso l'argomento che cosa fanno questi qua questi qua si trovano a dover scrivere questa direttiva e dicono caspita ma un mondo così diversificato fatto di così tanti canali di così tanti prodotti tra di loro eterogenei come può essere normato e può essere normato soltanto attraverso dei principi non regole poche regole molti principi i principi volano molto alti per poterli applicare servono delle regole ulteriori e poi delle ulteriori regole esplicative delle regole che so abbiamo delle regole che sono banalmente la consiglia di documenti di trasparenza subita e sui danni come poi cosa dovranno contenere questo è un altro discorso principi subito principi registrazione degli intermediari trasparenza sul pricing consulenza la trasparenza sul pricing quanto deve essere trasparente un contratto assicurativo se deve essere trasparente il pricing bisognerà come dire raccontare al cliente quali sono le commissioni quello è facile ma i rappel quelli li raccontiamo come li raccontiamo gli raccontiamo che ci potrebbe essere un rappel e poi a fine anno gli diciamo quant'è capite che è leggermente complicato e allora cosa succede la nozione di consulenza come vedremo la direttiva dice ma io vi do dei principi poi come si fanno le singole cose questo non ve lo dico perché ci saranno ci sarà una normativa secondaria che l'EIopa che è fondamentalmente l'amica dell'ESMA occupandosi di assicurazioni dovrà definire e la sta definendo e poi ci saranno le regolamentazioni nazionali tenendo presente che tra il Portogallo e la Svezia oltre ad avere prodotti diversi distribuzioni diverse abbiamo anche modalità di remunerazione di intermediari diverse quindi evidentemente ci dovranno essere delle norme nazionali che avranno il compito di fill the gap poi le compagnie si dovranno dare delle guidelines loro e perché no in fondo c'è un processo di regolamentazione che prevede ad esempio che nel mondo solvency parliamo di altro i titoli a supporto delle riserve non siano più definiti dall'organismo di vicinanza nazionale ma siano autodefiniti dalla compagnia con risultati che gli amministratori sono un pochettino sensibilizzati sull'argomento cosa dovrà contenere il Pog evidentemente bisognerà identificare il canale di distribuzione il mercato di riferimento la natura del prodotto fantastico ma quanto nel dettaglio ci dovranno essere degli stress test quantitativi e qualitativi come questi stress test si riconducono poi alla politica degli inducement diciamo che si capisce da questa roba che le compagnie attraverso un processo a cascata riceveranno dei principi anch'essi che poi dovranno applicare e questo significa che le compagnie acquisiranno un notevole potere che evidentemente si porta dietro organizzativamente anche la responsabilità l'innovazione di prodotto sarà possibile realizzarla in capo alla rete temo di no perché l'innovazione di prodotto dovrà essere fondamentalmente estremamente condivisa con la compagnia visto che lei ha centrato tutto all'interno del Pog e una piccola riflessa in Cina nel settore assicurativo si dice si parla che si deve andare verso il plurimandato sì ma se un agente plurimandatario potrebbe avere dei sistemi informatici per distribuire le polizze di ramo primo diversi da due compagnie due altri sistemi per distribuire quelle unit un altro sistema per distribuire le recce auto dopodiché i rami elementari un altro sistema ancora e tutto questo riverberato sulla liquidazione sinistri temo che sia complicato io ho l'impressione che questa serie di cose finisca per fidelizzare il distributore alla compagnia a meno che non si standardizzi le modalità di acquisto sul mercato delle polizze e quindi il sistema legacy vengano standardizzati e anche sistemi di liquidazione dei sinistri se non si fa così è un assist verso il monomandato che è esattamente il contrario di altre normative quindi come vedete gli effetti sono abbastanza strani veniamo a voi voglio arrivare a voi queste cose non interessano però magari anche sì fondamentalmente che cosa abbiamo io qui ho riportato le integrazioni al codice delle sicuretorie private indotte dalla normativa di ricepimento dell'IDD fondamentalmente abbiamo delle regole ordinarie tradotto valgono per tutte le polizze e direi per tutti gli intermediari che hanno a che fare con la distribuzione di polizze mappati dell'IDD quindi broker agenti eccetera principi di diligenza correttezza e trasparenza nel migliore interesse dei contraenti viene richiamato questo principio dopodiché figlio di questo principio sempre nell'articolo 119 bis che è introdotto apposta nel codice dell'assicurazione private per ficare dentro questo principio c'è scritto che il distributore non adotta disposizione in materia di compenso obiettivi di vendita di altro tipo che potrebbero incentivare se stesso o i propri dipendenti o collaboratori a raccomandare ai contraenti un particolare prodotto assicurativo nel caso in cui il distributore possa offrire un prodotto assicurativo differente che risponda meglio alle esigenze del cliente altra cosa siamo nelle regole ordinarie si applicano a tutti i contratti c'è una distinzione tra consulenza e vendita senza consulenza questo significa che si parte dall'idea che ci possano essere contratti assicurativi ordinari tradotto non importa quali finanza ma anche l'RC che possano essere venduti in alcuni casi senza consulenza in altri casi nell'ambito di un contratto di consulenza quindi due livelli distributori adottano e applicano presidi organizzativi efficaci al fine di adottare tutte le misure ragionevoli ad evitare conflitti di interesse non c'è scritto prevenzione quindi come dire cospita siamo tutti felici bingo attenzione e poi c'è scritto un'altra cosetta nell'ambito delle regole ordinarie principio di accettazione di inducement a condizione di non peggiorare la qualità del servizio al cliente dice caspina nella mifida di cercare di migliorare qua non peggiorare divertente calma c'è la sorpresina nell'IDD si parla di regole ordinarie e poi si parla di prodotti di investimento assicurativi cosa viene fuori qua viene fuori che è competenza dell'IVAS diciamo gestirsi certi intermediari che sono fondamentalmente le lettere A, B, C del codice di assicurazione private tradotto non le banche le banche no perché le banche sono state attribuite a qualcun altro nella distribuzione e voi sapete a chi ma il regolamento emanando dall'IVAS dovrà come dire prevedere un obbligo di ascoltare la CONSOB per garantire uniformità della disciplina a prescindere dal canale distributivo come dire abbiamo degli investimenti dei prodotti di investimento assicurativo le regole si alzano dopodiché il regolamento emanando dovrà stabilire casi in cui la compagnia o l'intermediario sono tenuti a offrire consulenza articolo 121 septiet comma 1 e quali informazioni sono tenute ad acquisire dal contraente in merito alle conoscenze e alle esperienze e alla sua situazione finanziaria by the way le come dire le le guidelines di EIOPA aggiungono anche conoscenze esperienze situazioni finanziarie obiettivi di investimento giusto per non farci mancare nulla in mancanza di informazioni e di informazioni insufficienti ha qui la normativa la compagnia comunica di non poter verificare il grado di adeguatezza del prodotto domanda glielo possiamo vendere lo stesso alzi bisogna vedere come si interpreta questa affermazione qui la normativa EIOPA traccia tre diverse possibilità la possibilità numero uno nell'ambito della consulenza se infiliamo questo prodotto nell'ambito un prodotto finanziario nell'ambito di un mandato di consulenza la risposta è non non si può appropiatezza generalmente no execution only sì il problema sarà previsto all'execution only per i contratti di carattere assicurativo finanziario direi di no il loro intendimento no gli inducements ricevuti ammissibili sono in relazione al regolamento IVAS oggetto della questione che ovviamente non c'è semmai una cosa conoscenza di default di costi oneri misura aggregata cioè non ci sarà lo specchettamento di oneri legati al contratto assicurativo a seconda che siano oneri diretti che siano rappel eccetera ma su richiesta del cliente si prevede di sì quindi come potete notare abbiamo come d'altra parte ci potevamo aspettare in relazione a dei modelli distributivi estremamente diversi prodotti estremamente diversi delle regole che sono poi dovranno essere a riempite dalle singole normative nazionali su intendimento su suggerimenti comunitari quindi fondamentalmente in questo momento si stanno producendo atti delegati e guidelines per produrre degli atti delegati in reciproca consultazione il disegno che viene fuori è una normativa a due livelli di principi uno per i prodotti chiamiamoli ordinari tutti e una come dire una normativa rafforzata per i prodotti assicurativi o finanziari che nel regolamento PRIPS però si portano dietro anche il ramo 1 perché le cose l'acqua del fiume va verso il mare non ce n'è come vedremo dopo il ramo 1 è intrinsecamente finanziario a meno che non ci sia una una elevatissima componente di rischio demografico confronto tra le due normative beh la IDD è più vaga perché doveva mappare dei prodotti molto diversi con dei canali distributivi molto diversi in tanti paesi e quindi per forza di cose era un obiettivo molto più grosso quello di uniformare le regole quindi apparentemente è meno stringente su consulenza conflitti di interesse e inducement ma bisogna vedere poi quello che uscirà fuori nell'ultimo stadio fondamentalmente questo deriva ha la necessità di normare un ambiente più eterogeneo ovviamente questo dovranno tutto questo come ho detto bisognerà vedere l'ultimo stadio in un contesto in cui le Iopa comincia a effettuare le precisazioni importanti quelle che vi ho detto o ancora quando è che gli inducement non vanno bene secondo le Iopa quando la distribuzione non è in linea con gli interessi del cliente quando ci sono dei fattori rilevanti negli inducement che distorgono la vendita del contratto assicurativo oppure gli inducement sono volti a offrire prodotti diversi da quelli che il cliente vorrebbe basati esclusivamente su criteri quantitativi gli inducement sono sproporzionati rispetto al valore del contratto ci sono degli upfront senza lapses cioè senza che perdite da parte dell'intermediario se il cliente smette di pagare e non ci sono refunds in caso di lapse risk voi dite vorrei capirne di più anch'io sono dei come vedete sono degli ulteriori principi sono la matriosca interna a quella precedente diciamo abbiamo la soluzione al problema no che so se io ho un inducement basato su criteri quantitativi e poi uno qualitativo va bene secondo me no però non lo devo dire io capite quindi io non conto niente io fiuto l'aria e l'aria mi dice che qua ci sarà una normativa molto vicina possibile fare un contratto di consulenza a funzionale collocamento di contratti assicurativi si può fare sarà soggettato evidentemente per voi all'amici 2 se ha a che fare con contratti di capitalizzazione e di ramo terzo al momento e in prospettiva ramo primo ovviamente voi dovrete rispettare due livelli di trasparenza rispettare a monte il POG della compagnia a chi è destinato il prodotto e a valle intervista col cliente per vedere se quel prodotto nel caso singolo era effettivamente adeguato a quel target cioè quello là pure facendo il fabbro e avendo 48 anni e essendo scapolo perché così era il segmento di clientela definito la compagnia è in grado di capire oppure no nel caso secondo no tenendo sempre presente di evitare i conflitti di interesse e attenzione nel pieno rispetto della natura del contratto assicurativo la domanda è ma perché avete collocato un contratto assicurativo dice ma perché avevo soltanto questo non va mica tanto bene perché si chiede qualcosa di più il cliente aveva veramente bisogno di una protezione legale offerta dal contratto assicurativo voleva i rendimenti minimi che altro quali sono le ragioni di carattere peculiare che hanno fatto sì che il contratto assicurativo fosse lo strumento volto a rispondere all'esigenza del cliente qual è il problema è che queste cose stanno cambiando noi non abbiamo più la protezione sta cambiando la protezione legale stanno cambiando i rendimenti minimi e anche il water sta cambiando quindi abbiamo a che fare con una conchiglia esterna che lasciate perdere il contenuto cioè i rendimenti minimi che si sta sta diventando un rombo sta mutando natura un pesce voglio dire sta cambiando natura e la conchiglia dentro non c'ha più la perla ma c'ha un osso capito e quindi è diversa non ci sono più rendimenti minimi allora cerchiamo di capire i fattori che decide è successo in Italia ricollegandomi alla slide precedente cambiamento del contratto nella parte meridionale cioè lì in fondo vedete i volumi di mercato del vita e dei danni le compagnie sono interessate anche ai danni perché tra l'altro si sono fatta una guerra di prezzi bestiale tra di loro e hanno capito che ci stanno rimettendo tutte perché a forza di fare sconti sui contratti assicurativi il risultato è che tutti quanti fanno gli sconti il risultato è che si è diminuito il fatturato di settore fantastico come dire grande lungimiranza convinte ciascuna di portare via il cliente all'altra e non ce l'hanno fatta oppure l'hanno preso ma hanno perso il precedente per cui nel vita invece le cose vanno diversamente by the way le compagnie sono entrate nel vita ma in realtà non sono entrate loro molte innovazioni nel settore assicurativo vengono dall'esterno direi quasi tutte il settore assicurativo è un settore che di per sé non ha molta voglia di innovare ci sono delle profonde ragioni di carattere organizzativo dietro questa questa situazione anche legale però le cose stanno un po' così e quindi le innovazioni sono venute dall'esterno pensate alla banca assurance sono le banche pensate al preconto provisionale bersani e così via la MIFIT voglio dire l'IDD mica l'hanno fatta loro quindi loro sono entrate nel settore assicurativo vita perché le banche hanno scoperto che vendere pollice assicurative avrebbe fatto aumentare diabolicamente il ROI di gruppo perché il capitale assorbito dietro una partecipazione bancaria pardon capitale assorbito da parte di una banca dietro una partecipazione assicurativa non era al 100% ma era al 20% quindi fatto 100% il valore della partecipazione il valore della partecipazione di una banca che compra una compagnia assicurazione che si compra tutto il capitale non ha un fabbisogno ulteriore di capitale alla banca di 100% ma soltanto di 20% e questo come dire esalta i ROI marginali chiarito che le cose sono andate così perché c'era un'esigenza di profitto per l'azionista legittimissimo come è fatto il mercato italiano il ramo 1 domina in contrastato come potete notare il ramo 3 molto meno e fondamentalmente tutti i premi fate conto che il settore assicurativo è estremamente legato alla performance del prodotto interno lordo paesi che crescono con prodotti interno lordo reale sostenuto hanno effetti più che proporzionali sui premi assicurativi se noi come dire siamo un po' una lumachina in termini di crescita macroeconomica ma abbiamo questi volumi beh ci deve essere una ragione e questi volumi vengono da altri settori fondamentalmente da quello del risparmio gestito da qualche altra cosa che è già esistente allora qui abbiamo altre aree di ricchezza finanziaria che si dedicano verso il settore assicurativo dove vanno sul mercato sul ramo 1 dove ci sono un sacco di embedded options che le compagnie fanno fatica a mantenere quali sono queste opzioni il consolidamento dei rendimenti la garanzia di un rendimento minimo alla scadenza la garanzia di capitale alla scadenza e ovviamente le compagnie stanno facendo di tutto per portarsi sul ramo terzo ma i dati questi sono per cui non ce n'è si respira l'esigenza di una forte innovazione di prodotto sul ramo terzo l'ideale sarebbe avere un ramo terzo con rendimenti minimi garantiti ma chi ci ha provato ci ha provato secondo la logica per chi conosce un po' le opzioni della parità put option con l'acquisto della call sintetica e non ha fatto bene i conti con la volatilità che è scoppiata nella crisi del 2008 l'operazione l'ha fatta AXA la principale competitor assicurativo europeo che a un certo punto ha dovuto una domenica fare un drammatico aumento di capitale perché gli analisti dicevano voi non siete in grado di chiudere il cerchio dovrete queste polizze con rendimento minimo garantito su delle unit estremamente volatili vi faranno costare cara la politica di copertura e quindi assorbimento di capitale notevole la compagnia diceva no 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 non è vero in realtà poi nel frattempo l'azione scendeva e quindi poi è dovuto fare un forte aumento di capitale da quel momento in avanti non se ne parla più ma il problema esiste e c'è tuttora in questo momento le compagnie come ho detto sono molto orientate verso i rami danni quali sono i problemi che hanno però nell'esis vita abbiamo detto che ci hanno delle embedded options che non possono più permettersi rendimenti minimi garanzia di montante sono due cose diverse garanzia di riscatto consolidamento nel tempo sono delle opzioni estremamente costose per giunta la nostra compagnia cosa fa è compra fondamentalmente dei titoli e rinnovando le scedole sui titoli è in grado in un contesto di contabilità a costo storico di arrivare a produrre questo risultato quindi si nutre il meccanismo da un lato di generosità nei confronti del cliente e quindi elevati capitali assorbiti dall'altro di convenzioni contabili che sono presenti nella gestione separata ma non nel bilancio consolidato praticamente una compagnia nel momento in cui mette in piedi una gestione rivalutabile deve valutare i titoli in tre modi diversi a nella botola della gestione separata sotto terra li valuta sempre a costo storico e che è quello che voi sapete che raccontate al cliente grazie alla valutazione a costo storico è in grado di poter mantenere il consolidamento seconda valutazione a pian terreno dove si fa il bilancio civilistico minor valore tra costo storico e valore corrente come le rimanenze finali questo significa che nel 2011 le compagnie devono valutare a valore corrente perché è più basso del costo storico ma nella gestione separata hanno dato il costo storico e nell'OIAS cosa fanno bilancio consolidato per value quindi tre valutazioni diverse potenzialmente diverse due saranno sicuramente diverse forse tre quindi questo ve lo lascio come poison pill per le slide successive secondo problema che abbiamo benefici fiscali sappiamo tutti cos'è il tax deferral sappiamo tutti come in passato è stato tutto detassato adesso invece c'è la tassazione sui 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 redditi di capitale anche nel caso di morte di vita intera esenzionali in posto e successione domanda ma in Europa funziona così? non credo ci sono ci sono fondamentalmente adesso non voglio essere analitico perché non è il caso però diciamo che il benchmark di riferimento è questo se abbiamo a che fare con una polizza di puro rischio caso morte è sicuramente fuori dall'imposta di successione di tutti gli ordinamenti se invece abbiamo a che fare con una polizza finanziaria ce ne sono soltanto tre gli ordinamenti che la tengono fuori uno non conta perché non ha l'imposta di successione quindi ne restano due flessibilità del contratto flessibilità finanziaria qui come dire grande fattore critico di successo nella polizza ci posso ficcare di tutto ci posso mettere gestioni di ramo primo ci posso mettere gestioni di ramo terzo un po' e un po' poi potrei tirare la camicia e farla diventare una tunica ad esempio abbiamo delle compagnie di assicurazione basate in altri ordinamenti segnatamente in Lussemburgo e Irlanda che soprattutto quelle in Lussemburgo danno la possibilità di costruire la polizza lì dietro la polizza la polizza è un passivo dietro la polizza ci mettiamo dei titoli è una unit ma sempre un passivo dietro la polizza ci mettiamo dei titoli scelti dal cliente ma cosa vuol dire scelti dal cliente scelti proprio da lui dice ma il singolo Isin sì lui può ribaltarti una gestione di portafoglio sì può darti un una costellazio di titoli amministrati sì quindi fondamentalmente ti potrebbe dare che so a una casa in costa azzurra la incapsula in una soparfi lussemburghese e ti dà le azioni della soparfi sì fantastico allora può anche cambiare la soparfi certo può portare ulteriori premi ma sì ecco questa è una notevole flessibilità finanziaria non c'è nessun problema ha però un limite come vedremo la normativa fiscale italiana l'agenzia delle entrate ha ritenuto che questa non sia una polizza e questo ha diciamo ridotto un po' la flessibilità finanziaria in capo ai residenti fiscali italiani non in capo a un residente fiscale italiano che cambia residenza fiscale e va a Lugano o a Monte Carlo perché evidentemente ha cambiato residenza fiscale quindi può fare quello che vuole da Monte Carlo e da Lugano compreso metterci nella polizza se ha oltre 2,5 milioni di euro dei fondi non armonizzati anche uno ha anche obbligazioni emesse dall'SRL di famiglia non ci sono problemi flessibilità contrattuale è un come dire è un contratto che a cui che posso cambiare posso renderlo irreversibile posso cambiare beneficiario posso cambiarlo tante volte posso renderlo cementizio cioè beneficio irrevocabile irrevocabile e così via dolci se in fundo mi dicono che se è una polizza vita mi permetto di osservare la condizione allora ha anche una tutela legale per il peculiare rappresentata dall'articolo 1223 che è fondamentalmente l'insequestrabilità e l'impegnerabilità ora tutte queste cose però scopriamo che anche si ridimensionano qualche volta le embedded options sono costose in termini di solvenzi 2 molte compagnie hanno deciso di non vendere più ramo primo o di provarci poi in realtà ci hanno dovuto ripensare a giudicare dei dati hanno preferito per ragioni che poi vedremo eliminare il consolidamento sui premi che di nuova acquisizione nuovi contratti niente consolidamento dal punto di vista fiscale è una polizza è una polizza se io vado da una compagnia lussemburghese o irlandese che mi dice che i miei fondi sono amministrati da Jean-Luc Rossi di Carmignac che io posso scrivergli una bella mail jeanluc.rossi at carmignac.com dicendo sono io vendi un attimo i btp italiani compra punte tedesche è una polizza per l'agenzia delle entrate no quindi ordini diretti al gestore anche no ci sono degli immobili contenuti nella polizza direttamente o indirettamente quella soparfi di prima implica che sia una polizza non è una polizza se l'assicurato ha più di 85 anni è una polizza come dire nella vita le cose certe sono due no e lì ci sarebbero entrambe sarebbe l'insieme intersezione pensateci un attimo che io voglio eludere ok ora non posso eludere la prima cosa ma la seconda sì quindi anzi la prima quasi quasi me la prendo no perché intanto soprattutto non sono io l'assicurato altra domanda se io ho una polizza che poi voglio dire se voi cominciate a riflettere su queste cose tirate il filo e arrivate anche a casa vostra perché rigiro del portafoglio molto intenso lo rigiro ogni sei mesi non è una polizza qual è la pena la pena è rappresentata dalla disconoscibilità dei benefici fiscali non è una polizza non non di benefici fiscali del trattamento fiscale riservato alle polizze e quindi evidentemente ogni anno deve pagare le imposte relative a una gestione patrimoniale perché di quello si tratta e niente esenzione delle imposte di successione nei confronti del beneficiario che sarà pure un beneficiario da un punto di vista civilistico ma fiscalmente anche no flessibilità del contratto flessibilità finanziaria possiamo ficcarci dentro di tutto no le autorità fiscali italiane dicono che non si dovrebbe fare flessibilità contratuale possibile ma attenzione ai prassi bancari sul deposito della polizza allora se io desidero cambiare una polizza un contraente e perdonatemi da Natascia si passa a Marina entrambe persone molto care all'interno in tutti i sensi ma non comprese nello stato di famiglia evidentemente io gradirei un minimo di riservatezza credo gradirei che l'ultima diciamo avvantaggiata o incentivata si trovasse a incassare il denaro in camera caritatis possibilmente qui però il problema qual è? è che le banche si comportano in tre modi diversi c'è la banca che non sa niente della polizza e quella mi consente di arrivare in camera caritatis senza alcun problema ma poi ci sono quelle altre due che se la ricordano una in modo particolare deposita la polizza sul dossier amministrato capite non ce n'è Maria viene a sapere tutto non si deve fare è un peccato in tutti i sensi e quindi no scusate 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 no per favore sono cose serie perdonate stavo dicendo stavo dicendo allora quindi della serie la flessibilità contrattuale va valutata in un processo organizzativo che è quello che io vado richiedendo guardando anche l'ultima casella l'ultimo miglio se io organizzo tutto ma poi la banca me lo mette sul dossier amministrato è come se non avessi fatto un tubo la protezione legale è ridimensionata pesantemente della giurisprudenza fondamentalmente la giurisprudenza non capisce più si trova davanti delle strane cose che si chiamano polizze ma non c'è una componente c'è un contenitore con dentro dei fondi comuni di investimento non c'è nessuna garanzia nei confronti di chi che sia nessun capitale caso morte o se c'è è ridimensionato il giudice poverino è un po' nei guai dice ma come faccio a ritenere che questo sia un contratto assicurativo oltretutto se qualcuno gli dice come viene rendicontata in bilancio sta polizza magari gli vanno a dire che si c'è una componente caso morte è inferiore al 5% per gli gas non conta come se non esistesse e tutta la polizza si chiama passività finanziaria non riserva assicurativa allora se io a casa mia una cosa la chiamo passività finanziaria evidentemente sono padrone del mio mondo del mio lessico è un lessico ufficiale quello del bilancio civilistico caspita lo devo realizzare lo firmano gli amministratori ci pago i dividendi con quello civilistico io fondamentalmente lì riconosco lì e soprattutto poi nel bilancio IAS che quella sia una passività finanziaria ma se io lo ritengo che sia una passività finanziaria che differenza c'è tra una passività emessa da una compagnia di assicurazione e quella emessa da banca intesa banca intesa ha emesso un certificato di deposito un'obbligazione la compagnia ha emesso una polizza ma tutte e due la chiamano passività finanziaria quindi voi capite che se le parole hanno significato evidentemente io sto correndo verso un mondo di finanziarizzazione della polizza che non è esattamente quello per cui era stata disegnata l'insequestrabilità che cosa succede qua in Italia restrizione all'opero di attività finanziaria reale introduscibile in una polizza ne abbiamo parlato diversa nozione dell'illusività della polizza rispetto al passato con casi di riqualificazione fiscale riconduzione a gestione patrimoniale le morti vita intera lo sapete sono società di impostazione di capitale essenzione di impostazione di successione perché considerate fuori la successione però in Europa abbiamo visto che anche no adesso abbiamo un maggiore trattamento fiscale sulle polizze estere anche in assenza di rappresentante fiscale perché ti hanno detto che certe cose non le puoi fare e qui è stato standardizzato il processo con un piccolo dettaglio la polizza estera si sta terribilmente avvicinando a quella italiana nel senso che se io devo investire in un overo di fondi che è definito e non posso più comprare il singolo titolo voi capite che una certa libertà che prima avevo non c'è più trattamento contabile abbiamo detto che per lo IAS 39 e l'IFRS 9 le polizze si chiamano soprattutto quelle unit e capitalizzazione si chiamano passività finanziarie quindi li chiamo in quel modo nel bilancio consolidato vengono consolidate nelle passività finanziarie emesse dalla banca si chiamano al stesso modo e quindi voi capite che se io ho una morte vita intera con 5% di capitale caso morte fino a 5% è tutta passività finanziaria se è dal 5% al 10% ci posso riflettere oltre al 10% devo spacchettarla una parte rilevantissima sarà passività finanziaria l'altra sarà componente assicurativa voi capite a quale delle due componenti andrà la tutela del 1923 temo la seconda è facile immaginarlo le polizze rivalutabili sono in questo momento chiamate riserve tecniche ma con l'IFRS 9 nel 2021 cambieranno denominazione e oggi mi sto un po' male per il semplice motivo che io ho un processo di riconoscimento delle plusvalenze latenti dei portafogli titoli che stanno dietro le polizze alle polizze stesse quindi ancorché il titolo non sia stato venduto nel bilancio consolidato posso attribuirgli la plusvalenza e non realizzata sottolineo non realizzata si chiama shadow accounting tutte le compagnie lo fanno o quasi la maggior parte questo significa rendere la polizza anche unit scusate anche rivalutabile molto dipendente dalle plusvalenze latenti quindi si sta seguendo la strada della finanziarizzazione di quelle di ramo terzo solvency prima di chiudere questa partita volevo dirvi che dove si va a cascare in questa zona nel seguente esempio immaginatevi un bilancio in cui al passivo ci sono delle polizze supponiamo non passività finanziarie cioè polizze di ramo primo all'attivo ci sono dei titoli e per differenza ci sono i mezzi propri 100 di titoli all'attivo 80 di polizze rivalutabili e 20 di mezzi propri cosa succede? succede che nel bilancio consolidato che è quello che guardano gli analisti per stabilire se i generali devono essere comprata o venduta cosa succede? succede che i titoli dell'attivo sono valutati travervelio quindi oscillano invece le polizze rivalutabili se non c'è shadow accounting o se ce n'è un po' valgono tanta si prende il civilistico e si porta lì i mezzi propri sono la differenza allora provate a immaginare cosa succede se c'è un rialzo dei tassi tale per cui i 100 euro di titoli che stanno all'attivo dovessero diventare 98 cosa succede ai mezzi propri 80 restano lì i mezzi propri scendono a 18 2% di scivolamento dei titoli verso il basso corrispondono al 10% di downsize del capitale proprio secondo voi cosa dicono gli analisti strong buy o strong sell capite che un amministratore delegato una cosa del genere non lo può permettere e quindi dice io voglio policy unit al passivo in modo tale che quando vanno giù i titoli all'attivo vanno giù anche quelli al passivo perché la convenzione è a valore corrente da entrambe le parti e io ho i mezzi propri immunizzati se non è così io voglio delle polizze di ramo primo che non riconoscono il consolidamento tradotto se il cliente riscatta gli do quello che c'è cioè nel momento in cui faccio il bilancio dico quanto vale il passivo se dovessero riscattare tutti 78 ok posto a quel punto per voi per il vostro rapporto di clientela cos'è quella polizza se ammesso che voi abbiate un mandato tutto fatto di polizza voi dite è una polizza rivalutabile sì legalmente senz'altro ma come si comporta quella polizza rispetto a un monetario la standard deviation di quella polizza del valore di riscatto sarà molto più oscillante rispetto a un monetario per il semplice motivo che è garantito l'arrivo ma durante la strada ragazzo mio se incontri Belzebù sono problemi tuoi cioè il rialzo dei tassi te lo prendi tutto perché dietro ci sono titoli anche con duration non necessariamente a sei mesi quindi occhio perché vi dicevo quel contratto sta cambiando vedete quanto sta cambiando unit scusate solvency unit non garantita unicamente capitale soltanto per rischi operativi tra l'altro non ci sono rischi di mercato non ci sono rischi di credito capitale per rischi di mercato rischi di credito è zero sulla rivalutabile no perché io ho rischio di mercato e rischio di credito ho un rischio di mercato sul valore puntuale della garanzia e sul consolidamento ho rischio di credito perché devo restituire tutto alla fine a questo punto la domanda che come dire siamo arrivati alla fine c'è sovrapposizione o complementarietà in passato sovrapposizione con servizi di gestione era evidente che ci fosse sovrapposizione quando si costruisce una morte vita intera con dentro dei fondi comuni di investimento senza problemi è così la ragione per la quale si va in Irlanda o in Lussemburgo è duplice da un lato si vuole costruire una cosa che è più tailor made nei confronti del cliente sceglie il singolo titolo ma dall'altra parte si possono accettare dei rebates degli inducement che secondo la normativa italiana mi fiduno non sono consentiti o sarebbero difficilmente consentibili per il futuro come la mettiamo abbiamo detto che l'alta direzione è preoccupatissima dei rami danni perché c'è un potenziale maggiore potenziale di crescita e di redditività abbiamo un insieme di regole che ti portano verso come dire verso pensate al giudice che interpreta la polizza se la polizza è fatta se la conchiglia esterna è una polizza ma dentro ci sono dei fondi comuni si si può chiamare ancora polizza assicurativa ma è una vera polizza assicurativa si può si può si può richiamare completamente l'articolo 1923 del codice civile magari non completamente e allora che cosa sarebbe opportuno fare sarebbe opportuno probabilmente cercare di creare un po' di complementarietà un po' di differenza tra i due mondi magari introducendo nel contratto di gestione delle componenti danni magari di servizio se ne possono fare se ne possono inventare tantissime ci sono stati degli esperimenti che hanno avuto un grandissimo successo ad esempio introduzione in una polizza vita di componenti sanitarie preventive io ti do automaticamente la polizza vita con le sue revenues alimenta un pacchetto di prestazioni sanitarie che se tu non utilizzi ritornano nella polizza vita però sono pronte a essere utilizzate di medicina preventiva non successiva perché poi bisogna fare in modo che i rapporti sinistri premi siano ridimensionati e siano sotto controllo quindi a prevenire piuttosto che garantire perché ci sono minori assorbimenti di capitale e questo al fine di evitare che la partita si giochi in una zona in cui il terreno è veramente scivoloso cioè i rendimenti minimi o peggio ancora sui tassi di conversione di rendita il giudice ti chiede anche quello ma quello non sono facilmente attribuibile alla clientela perché non sappiamo quanto dura la vita umana e quindi è difficile tariffare se non anche impossibile in un contesto in cui le compagnie stesse desiderano avere delle redditività svincolate da rischio di tasso quindi se noi costruiamo dei prodotti che sono un po' più assicurativi con delle componenti assicurative e diciamo collegano l'attuale finanza con delle componenti assicurative forse facciamo una buona cosa perché anche la redditività delle compagnie si svincola dal rischio di tasso e questo potrebbe far capire un po' meglio come che assicurativo è il contratto e non necessariamente finanziario io vi fermo qua spero di non avervi creato il mal di pancia e se ci sono delle domande volentieri grazie